Abbiamo già conosciuta Arianna Di Biase, ma sì, ve la ricordate, no? Imprenditrice, divulgatrice, instancabile del vestire Grimm, con il cuore, come lei dice e l'ha detto anche a noi, rivolto all'innovazione e la mente aperta al futuro, nell'ambito dei principi di una moda etica ed ecologica, adesso ancora di più sostenendo i marchi nei loro progetti di cambiamento. Ce ne sono e anche parecchi. E allora ecco il suo, lo facciamo anche subito vedere, il libro da cui partiamo per riflettere, New Fashion, scoprire le fide della sostenibilità per essere brand nella nuova era della moda. Io direi che mai il titolo più esplicito, più invocante e invogliante da qua partiamo, da questa guida appunto per brand, per stilisti, per aziende di moda che aspirano a diventare più sostenibili, ma anche per tutti noi che aspiriamo a che la moda diventi più sostenibile. Ne parliamo oggi con l'amica Arianna che è tornata a trovarci. Ed ecco allora, piacere di rivedere, risalutare e riospitare Arianna De Biasi. Grazie per aver accettato il nostro invito dopo che abbiamo visto uscire questa guida New Fashion di cui vogliamo parlare. Buonasera Arianna. Buonasera Claudio, grazie, è sempre un piacere rivederla. Adesso vediamo un po' come la mettiamo, che sono dieci le domande che io debbo farle. Sono pronta. C'è anche un video che vogliamo mostrare, ma intanto Arianna, scoprire le fide della sostenibilità per essere brand nella nuova era della moda, che è il libro, questa guida, che ci invita a fare questa prima riflessione. Ecco, per chi ha deciso intanto di scrivere questa guida, che cosa si propone e quanto duro è ancora portare avanti queste sfide che lei per prima sta lanciando a se stessa e adesso anche agli altri. Io vorrei partire da questa prima domanda. Allora, perché ho deciso di scrivere questo libro? Perché l'industria della moda si trova adesso in un momento che è cruciale, in cui l'appello alla sostenibilità è diventato una richiesta da parte di marchi, di consumatori, di dipendenti, di diversi stakeholder. Questa è proprio un'era in cui la moda consapevole e inclusiva è già iniziata ed è importante non restare indietro. E questo libro nasce proprio dal desiderio di poter arrivare a quanti più fashion designer, aziende, brand che lavorano all'interno del settore della moda affinché possano cogliere questo appello e possano da una parte aprire gli occhi, dall'altra agire e indirizzarsi verso delle azioni che in maniera efficace possono effettivamente contribuire a rendere già il futuro della moda attuale oggi, un futuro più green e più etico. Lei per agevolare il nostro ingresso nell'atmosfera, oltre che nei concetti, nei contenuti di ciò che stiamo trattando, ci ha invitato a visionare un video. L'abbiamo visto, ci piace, lo mostriamo. Eccolo. Grazie a tutti. Beh, devo dire molto comunicativo, fatto bene, entra diretto nei temi e anche nei problemi che ci sono. Senta Arianna, lei dice per prima che bisogna saper scartare i vecchi schemi, ma anche i vecchi interessi che non sono pochi. Quali soluzioni propone al riguardo? Quali sono i segreti, se si possa dire così, suggeriti per diventare o essere brand nella nuova era della nuova era della nuova era della nuova era di una moda che rimane sempre se stessa, ma che cambia stilemi, che cambia contenuti? Allora, forse se dovessi scegliere l'aspetto più importante da modificare per poter essere un brand in questa era della moda, direi che è quello di vedere il ruolo fondamentale del design sostenibile, cioè il design è alla base di una moda che possa ridurre al minimo il proprio impatto negativo ambientale e sociale, massimizzando dall'altra parte invece il contributo positivo che può portare. Una moda quindi più consapevole, etica, ecologica richiede un approccio che consideri proprio al momento del design tutto l'intero ciclo di vita del capo, dell'accessorio, delle calzature. Questo secondo me è il fulcro su cui si basa poi tutto il libro, perché poi in realtà sono diversi i passi, quindi non c'è un solo aspetto. Si parte dal design, ma all'interno del libro si è appunto guidati attraverso una serie di passi che vanno a toccare diversi aspetti, quindi dalla scelta dei materiali alla trasparenza della supply chain, all'etica della catena di approvvigionamento, all'adozione di modelli di business che siano alternativi rispetto a quelli che le aziende utilizzano oggi e anche al bilanciamento poi tra quelli che sono i prezzi, perché siano accessibili al pubblico e i costi che la sostenibilità poi ha. Direi quindi che la chiave fondamentale sia proprio il design, quindi farei partire tutto da là, perché quello che è necessario ora soprattutto fare, per i brand di questa era è pensare alla sostenibilità al momento in cui si progetta un capo, un vestito, un accessorio, una calzatura. Vogliamo ricordare, dando sempre nulla per scontato, quando poi si veleggia, si naviga nel web, ci vede il mondo, vogliamo ricordare Arianna che oggi non si può certo dire che la moda sia pulita, che sia etica, che sia ecologica, l'industria della moda è responsabile di emissioni di carbonio, ancora di sprechi, di inquinamento delle acque, perdita anche della biodiversità, un tema a noi molto caro. Allora, una nuova prospettiva sulla Mosa, cosa dunque deve anche comportare? Perché qua ci sono molti interessi in gioco, questa è anche un'altra verità che bisogna che ci ricordiamo. Deve comportare appunto la progettazione di vestiti, di capi, di accessori della moda che abbiano in mente l'impatto che possono avere alla fine anche del ciclo di vita, quindi quante emissioni di carbonio vengono utilizzate per la produzione sia del tessuto sia proprio del capo, quanta acqua viene utilizzata, quanto vengono inquinate le acque e poi quanto vengono utilizzate parti del suolo, aree che vengono tolte appunto alla biodiversità, agli animali, alla coltivazione anche del nostro cibo. Quindi bisogna proprio tenere conto tutti i significativi impatti ambientali e non solo perché ricordiamo Claudio che c'è anche tutto il discorso sociale, quindi tenere conto anche delle condizioni lavorative delle persone che sono lungo tutta la filiera della moda. Ecco, secondo me le aziende devono proprio avere in mente tutto l'impatto, tutti gli aspetti che tu hai sintetizzato e di cui abbiamo parlato anche in precedenza più in dettaglio. E non solo, un altro aspetto sociale a me caro è anche quello dell'inclusività, perché magari non se ne parla spesso, ma è necessario tener conto anche della diversità sia dal punto di vista delle etnie razziali, delle minoranze etniche che vengono coinvolte nella produzione, sia anche per quanto riguarda poi la presenza delle donne all'interno delle aziende. Sono tantissimi gli aspetti da considerare che al momento non sono tanto puliti all'interno della nostra. Temi anche drammaticamente attuali. Arianna ha detto bene con la parola sostenibilità, lei dice finalmente non bisogna più che sia un contenitore vuoto, un concetto svuotato di significato. Le chiedo, conoscendo la sua franchezza, lo è stato finora un poco svuotato di contenuti? Sì, personalmente credo che lo svuotamento sia dovuto al fatto del sentirne parlare tanto, di essere un po' sulla bocca di tutti. Certo. Quindi più ne parliamo, più ci proclamiamo sostenibili, più aggiungiamo il termine sostenibile a qualsiasi cosa presentiamo sul mercato, qualsiasi cosa che magari indossiamo, compriamo, andiamo a cercare proprio quella parola e più purtroppo viene svuotato. Abbiamo bisogno invece di dare contenuto, ossia di definire per esempio in maniera più precisa, sostenibile sì, in che cosa, quali aspetti, quindi andare più nel dettaglio, anche perché presto non sarà più possibile utilizzare l'etichetta da auto appiccicarsi e di sostenibile sui nostri prodotti, sul nostro stile di vita, eccetera. Quindi sarà sempre più disciplinato. Il contenuto è dato dalla coerenza, quindi da mettere in pratica veramente, in questo modo si può togliere il vuoto. Dalla coerenza, dall'insistenza, dalla cucciutaggine nel proporre concetti e contenuti, come lei sta facendo, no? Mi viene in mente che sto per preparare una puntata sulla famosa carne coltivata, che chiamano erroneamente sintetica. Noi siamo qua a farle pulce e dire ma come mai perché i Made in Italy in Germania hanno subito investito milioni e milioni e milioni perché là è il futuro e lo sappiamo tutti. Arianna, il modello del fast fashion però funziona. Ho letto che ha contribuito a un aumento del consumo di abbigliamento to-cour. Quindi questo è un aspetto non secondario, perché la sua ricerca di attenzione da parte di brand deve partire principalmente dalla realtà dei fatti. Funziona. Finora che risposte ha avuto? Dalle major, dalle aziende. Allora il modello funziona e questo purtroppo non spinge a cambiare le cose. La notizia positiva però è che... Aspetti, lo spieghi bene questo concetto? Lo spiego meglio. Funziona questo? È importantissimo. Lo spiego sì, più nel dettaglio. Funziona nel senso che le aziende fast fashion hanno risultati, quindi trovano riscontro in una fascia di consumatori che apprezza il fatto di poter cambiare in modo veloce il modo di vestire, di avere tanti pezzi nell'armadio, di poter indossare poco, di poter seguire le mode. In questo senso funziona. Non funziona ovviamente per il nostro pianeta e per la salute delle persone, per il benessere delle persone e dell'umanità. Ecco, quindi con questo intendevo funziona. Il problema è che vedendo questi risultati e vedendo un riscontro da parte dei consumatori, le aziende hanno poco incentivo quindi a cambiare. La buona notizia però è che ci sono diverse ricerche che si concentrano soprattutto sulle nuove generazioni, che mostrano che in realtà questo modello in futuro non sarà sempre così, diciamo, con riscontri positivi sul mercato, perché le nuove generazioni sono più attente. Tant'è vero che non disdegnano tutto il circuito del second-end, quindi tutto il settore dell'usato. Questo che cosa sta producendo? Che ci sono delle previsioni ottimistiche, io spero che davvero si realizzino, che vedono il superamento della vendita dei capi second-end, per esempio, rispetto a quello del fast fashion. Quindi un segnale positivo c'è. Quindi se le aziende adesso si stanno adagiando con questo riscontro nella fascia dei consumatori, devono però stare attenti che soprattutto la futura generazione vuole vedere veramente una produzione più etica e da un consumo che è più responsabile. Il libro lo facciamo vedere ancora, abbiamo detto essere una guida pratica, si rivolge direttamente a stakeholder, a brand, oltre che ai consumatori to-cure, e serve per fare sensibilizzazione e comunicazione sul tema. Ma le chiedo, Arianna, cosa bisogna guardare per capire se un marchio di moda sta davvero mettendo in atto quello che è un percorso, un itinerario di sostenibilità? Ci sono segnali concreti che anche noi potremmo vedere, noi consumatori intendo? Questa è una buona domanda, perché in realtà bisognerebbe guardare tantissimi aspetti, quindi proprio un elenco. Nel libro diciamo tutti i passi che guidano un brand ad essere più sostenibile, dall'altra parte per un consumatore sono invece tutti gli aspetti da guardare, come dicevo prima, la trasparenza della supply chain, che cosa succede alla fine del ciclo di vita, se c'è un'attenzione anche a comunicare, per esempio, il fatto di utilizzare il capo più a lungo e come mantenerlo più a lungo. Se dovessi dirlo sinteticamente direi che si può vedere se un marchio è veramente impegnato nella sostenibilità, se ha appunto un progetto, un piano a lungo termine che riguarda tanti aspetti, cioè non si ferma a un aspetto che può essere quello dei materiali un pochino più ecologici e per quello si definisce sostenibile, ma se ha un programma e lo comunica attraverso il sito aziendale dicendo proprio dove vuole andare, in quanto tempo e mostrando di avere un approccio olistico alla sostenibilità. Quanti più aspetti, in quanti più aspetti si sta impegnando, tanto più noi possiamo credere che veramente ha in mente una strategia seria alle spalle. E' molto perentoria nel dire, e a me piace questo, l'era di una moda più etica e inclusiva è già iniziata. La sicurezza nell'affermare questo da dove le deriva? Perché lei è una donna straordinariamente affascinosa, ma anche straordinariamente concreta, se la conosco bene. Grazie, si arriva già iniziata perché lo vediamo da diversi aspetti. Come dicevo prima, dai consumatori che iniziano a chiedere sempre di più di cambiare questo modo di fare moda, che chiedono di comprare dei prodotti che mostrino, che rappresentino i valori in cui credono. Quindi questo è un primo aspetto, quindi possiamo dire dal mercato, da noi consumatori. L'altro è già iniziata perché, come possiamo vedere dal punto di vista governativo, abbiamo già delle azioni in diversi paesi nel mondo, quindi ci sono delle normative anche a livello europeo che diventano sempre più impellenti e che spingono a cambiare questo settore della moda. Quindi è già qua, non possiamo più aspettare oltre, perché abbiamo delle spinte, delle pressioni, da una parte dai consumatori, dall'altra dai governi. Quindi è già cambiato, non possiamo più continuare con i vecchi schemi. Ed ecco che allora viene giusta la domanda della preconclusione. Se il futuro della moda passa da queste sfide della sostenibilità, come convincere le major, le major grandi e piccole che siano, i brand ugualmente, a cercare di credere in tutto ciò che viene loro proposto. Questa guida lo fa con concretezza. Saranno quasi obbligati ad affrontare nell'immediato futuro quello che lei sta prospettando o sarà un cambiamento ancora lento, ancora tensionato, ancora volutamente verificato da come sta andando il mercato? Insomma, in poche parole, il mercato continuerà a comandare? Questa è una buona domanda, perché abbiamo degli elementi, da una parte e dall'altra, che ci dicono e continueranno ad andare molto lentamente? Oppure invece, ecco, ci sono dei segnali che stiamo correndo da un certo punto di vista. Credo, Claudio, che sia fondamentale in questo caso l'intervento dal punto di vista governativo. Quindi, se riusciamo ad andare sempre più veloci, anche a livello di Unione Europea, vedo soprattutto negli ultimi mesi che qualcosa si sta smuovendo, allora le aziende riusciranno a un ritmo più sostenuto a realizzare già questo futuro ideale della moda che ci immaginiamo. Perché non credo che spontaneamente riescano ad accelerare, quindi c'è proprio bisogno di un intervento esterno. Finché è stato lasciato questo cambiamento alla spontaneità delle aziende, è andato molto lentamente. E invece che ora, che vediamo anche dal punto di vista della comunicazione, dal punto di vista di tante normative che saranno intandate soprattutto in Europa, ecco che allora si vedono a questa corsa e si comincia all'interno delle aziende a fare davvero più seriamente. Dall'altro c'è anche quella spinta dal mercato, quindi è importante anche il nostro ruolo. Quindi se desideriamo vedere un'accelerazione, anche noi abbiamo la nostra parte e possiamo fare qualcosa. Perché in fondo le aziende hanno cominciato a cambiare anche grazie all'attenzione che noi consumatori stiamo sempre più avendo. Lei non ci crederà, Rianna, ma siamo riusciti a fare non dieci, ma dodici domande. E sono passate come un fucello in un rivo dolce che scorre nella pianura. Io la ringrazio molto. Nel momento in cui chiedo all'Aria di preparare nuovamente il contributo che abbiamo mostrato, ringrazio allora Arianna De Biasi. Noi siamo sempre a disposizione quando si tratta di veicolare concetti contenuti con gradevolezza, ma anche con attenzione all'obiettivo che vogliamo tutti noi colpire, che è la sostenibilità di questo nostro vivere, sia il suo quotidiano o lungimirante. Allora, nel salutarla, Arianna la ringrazio e riproponiamo allora il video che lei gentilmente ci ha passato. Alla prossima, Arianna De Biasi. Grazie mille Claudio, grazie per aiutarmi a realizzare questo sogno di veicolare questo messaggio a quante più persone possibili. Grazie davvero tanto, perché per me è fondamentale, molto importante. Grazie. A presto. A prestissimo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.